Dovrai portare questa valigia blu a Baker in California. E là, nel giro di circa 24 ore, un tizio chiamato Cowboy ti contatterà per prelevarla. È tutto chiaro? Se accetti l'incarico, noi ti daremo 25.000 dollari. Aspetta. John Favreau. Io dovrei solamente portare questa valigia al Cowboy, giusto? Che ci faccio? Bad Kurt. Un uomo chiamato Cowboy è venuto a cercarti. Sarà passato un'oretta fa, credo. Vuol dire che il Cowboy è già stato qua. Era un tipo molto truce, con una assurda palandrana nera lunga lunga. Sean Bean. Ammazzato. Perché ti sei messo in questa situazione? Si sieda, John. Il mio nome è Banks e sono un agente dell'FBI. 75 persone, John. Svanite e senza lasciar traccia. Un lavoretto semplice, in un posto sperduto. Quel lago secco è una stazione degli UFO. È lì che rapiscono i viaggiatori. Le persone sparirebbero e basta. Dove ogni indizio porta fuori strada. Neely è stato visto per l'ultima volta con una valigia blu e una borsa da bowling azzurra. E dove ognuno... Guarda! Stanno arrivando! ...nasconde un segreto. Ehi, guarda questa. È la zampa di un alieno. Sembra la zampa di un pollo gigante. Ha anche il sapore del pollo. Per il Hannah. A chi ti serve la pala? Ci seppellisci i cadaveri nel grande vuoto? Un fastidioso imprevisto. Che sta succedendo? C'è ancora una cosetta da sistemare. Dove hai messo la sua testa? Dove hai messo la borsa da bowling? Il cowboy gioca a bowling. Mi taglio come un tacchino il giorno del ringraziamento! Ti ho detto di metterla giù! Ti calmi, amico. Sembri un folle. Laggiù sta accadendo qualcosa di strano e la vita di quelle persone è in pericolo! The Big Empty. Hai deciso di trasferirti qui? Al momento so solo che devo consegnare una valigia misteriosa a un assassino di puttane che mi pagherà 27 mila dollari e che sotto il lavandino ho la testa del mio vicino in una borsa da bowling.